Oh, deep in my heart I know that I do believe we shall overcome some... Liberi TV, qui Marco Marchese, siamo a Parigi, siamo al Trocaderò, siamo in pratica vicinissimi alla Tour Eiffel, che adesso vedrete dietro alle mie spalle, siamo alla settima marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, siamo in una splendida cornice, questa manifestazione è riuscita benissimo, centinaia e centinaia delle persone che vi hanno partecipato, decine le comunità che hanno rappresentato i popoli e le minoranze oppresse di tutto il mondo, noi abbiamo posto delle domande a diverse persone, a diverse personalità, ci siamo posti anche noi una domanda, e cioè perché, sebbene questa manifestazione sia stata molto partecipata, perché mancano le centinaia di migliaia di cittadini comuni che dovrebbero esserci a manifestazioni di questo tipo, abbiamo raccolto delle risposte, ognuno di voi potrà farsi una libera opinione, noi come Micro Web TV ci siamo stati, abbiamo marciato, sono sette anni che partecipiamo a questa manifestazione, Parigi è riuscita benissimo e vale la pena anche ricordare le edizioni di Roma, le edizioni che si sono state fatte in contemporanea a Berlino, a Bruxelles, a Roma, a Parigi, e quindi vi diamo nuovamente appuntamento per la prossima, che sarà l'ottava marcia per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, con Società Libera e con Liberi TV, un saluto a tutti i nostri web ascoltatori, grazie.